Ragazzi, prima che inizi il video volevo dirvi che sto collaborando con Instant Gaming Un sito che vi permette di acquistare chi di videogiochi e non solo a un prezzo veramente molto conveniente Ma figo, senti la cosa? No Frank, per favore Trovate il link sotto in descrizione, quindi se dovete comprare un gioco, il miglior prezzo lo trovate unicamente da Instant Gaming Ma figo, e con i soldi che risparmiate vi ci porto in un bel posto, dico bene Jack? Va bene, dai Ma figo, senti la cosa? Secondo te potrei fumarvi tutte ste piante? Ma signor Clinton, insomma, ma buongiorno, salve, come sta? Un po' sclerotico lei Scusa me un po' si, eh Comunque ragazzi, io sono Flayn e bentornati Siamo qui oggi, non dalle grotte, insomma, dei talebani Mi è esplosa la lampada in questo preciso istante, quindi faremo il video, tra virgolette, al buio Quindi ragazzi, per questo mi raccomando, un bel pollicione Insomma, magari potreste commentarmi qua sotto con scritto gli alberi Perché quest'oggi mi in mente una rampa un po' strana Ovvero, una rampa che riesce a saltare più alberi Ovviamente la velocità che prenderanno sarà sempre la stessa Onde evitare il burrito che arrivano ai 1000 km orari E delle sgancherate Asia che ci arrivano ai 120, ecco Vincerà come sempre il veicolo che arriverà più lontano E in più avremo anche il militare a romperci la c***a Perché la faremo con 5 stelle di polizia Dico bene, buon uomo, assolutamente sì Ha detto di sì, ma non si è visto perché è volato per terra Allora, il salto sarà una roba del genere Adesso la faccio vedere Dopodiché esponeremo 5 veicoli a caso Li salverò Qua ci arriverò più o meno tra i 190 e i 200 Per mettere d'accordo tutti i veicoli Il salto sarà una roba simile I veicoli quando atterreranno Prenderò la loro posizione Cercando di fermarmi proprio sull'atterraggio I primi 5 veicoli che arriveranno più lontani Faranno, diciamo, una rampa finale Senza freni E vincerà ovviamente quello che arriverà più lontano È molto bilanciata Perché potendo saltare tutti quanti i 200 km orari Possono avere quasi, insomma, tutti la stessa possibilità Ma sottolineo quasi perché non si sa mai È morto? Sì, meno male Ma direi di partire subito con i primi veicoli randomizzati Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale Perché quest'oggi porta più fortuna Di farlo tipo da qua a mille anni Le esponerò 5 subito Li salveremo nel database Dopodiché ne esponerò altri 5 Altrimenti, avendo 5 stelle di polizia Alle calcagna non è facilissima Abbiamo anche una barca, va bene Abbiamo questa, abbiamo questa Utilizzerò anche i veicoli che ho aggiunto Quindi potremo utilizzare una Mercedes moddata Eccetera, eccetera, eccetera In questo caso c'è la fiera dei veicoli storti Trasciando la della polizia Devo mantenere una velocità dei 190-200 Non di più e non di meno Non accelerava più Insomma, non si possono fare ovviamente i miracoli L'atterraggio è questo qui Ok, provo un pochino ad andare avanti ma ci sta Togliamo la collisione Che andrà signor Clinton Passiamo con il prossimo veicolo E abbiamo la barca Adesso il problema principale sarà saltarci sopra Riesco a entrarci? Mamma mia che antipatici io Allora, ne ho dovuta creare un'altra Ma ci sono, io ci credo Vada, vada Allora, devo prendere i 200 Forse ce la faccio Forse se non si gira come una scema Ma girati demente di una barca Non si gira Buongiorno, mi scusi È che, insomma, non è facile guidare una barca Di questi giorni Soprattutto dentro una base militare Vada avanti Santo Dio che pazienza Vai, ok, ci siamo Ruota Non gira un cazzo Ma ruotati un attimo Vai avanti Brava Bravissima la barca Girati Dio santo Non si gira un cazzo Ma fate qualcosa Invece di sparare Ecco, bravi Spingete avanti la barca Mi sono rotti i maroni Ma f***o barca di m***a Niente, la barca è squalificata Prossimo veicolo Devo riuscire Santo Dio se questi non rompono la minchia A saltare ai 200 km orari Evitando ogni demente possibile Vada Ok, 190 Ci siamo Va Ma f***o Vabbè, insomma, peccato per la velocità un po' Non bellissima Ma A terra Molto bene E abbiamo la sua posizione Qui nel momento cruiser della polizia Ebrea posizione Non so a quanti tronchi di distanza Dal Camacho Non tantissimi Ma consideriamo che il Camacho Non è un cattivo veicolo Quindi Tanta roba Il prossimo veicolo È la Neon Non ci sono robi palle nei paraggi Ci sono due corpi Lì prima che ho ucciso Tirateli via Chiamate un bidello Pulite per terra Attenzione che la Neon Fa un gran coso Mamma mia che salto la Neon Ho saltato ai 187 Mi pare Non ha fatto un coso in più Spero di no Io non dico niente Perché ha fatto una gran roba Ho tolto la collisione questa Secondo me non l'ho tolta Poi se ci salta addosso Sono problemi Per gli altri veicoli Ok Quest'oggi veramente Possono succedere cose magiche Abbiamo visto già la Neon Fare di più di un cruiser Della polizia Che non si è mai visto In tutta la sua vita Allora Ma ce l'ha fatta stare calmi Un attimo a respirare Fatemi una tisana nel mentre Non lo so Io lo sapevo Che mi arriva a rompipalla adesso Ma sta buono Dio santo Oh raga Non salto Questo dai Ma santo Dio Cos'è sta roba Ecco Tenga lo vuole È un regalo Arrivederci Allora I prossimi veicoli Spawn in fretta Altrimenti qua mi arriva Adosso l'esercito Abbiamo Ehm Voglio fare 4 forse L'hot knife Non male La tornado Ottima Abbiamo questa che Non so cosa sia E abbiamo La cita Ok Partiamo ovviamente Dalla hot knife Sperando possa fare Qualcosa di buono Non è difficile Essendo diventata Una macchina moddata Tra virgolette Vai Tieni 200 Santo Dio Che palle Vabbè Insomma non è facilissimo Alla fine Vada Non becchi nessuna pioppa Beh insomma Dietro al camaccio E in ultima posizione L'hot knife Strannissimo State buoni E madonna santa C'è la clown fiesta Qua in fondo Allora la prossima È la tornado C'è cazzo Tornado in prima posizione Me lo auguro Anche perché Io temo Io so già So già il veicolo Che apparirà E che farà un macello Si chiama emperor 200 Stai tra i 100 Avanti i 200 Ok La tornado fa un buon salto Ovviamente ci sono le pioppe Che rompono le pali Quindi sarebbe meglio Fermarla qui Ma lei riesce a atterrare Perfettamente La tornado È davanti a tutti Pollicione in su Per la tornado Che super Tutte le altre macchine Riuscire a tenere i 200 Quanto è? Ok 190 Vai su Dio santissimo Che palle Non male salto Però attenzione Non beccare alcuna pioppa Boom Mamma mia Dietro la tornado Leggermente davanti alla neon Di pochissimo Si mette in seconda posizione Madonna spero non mi viochi le ruote Altrimenti faccio un incidentaccio Bruttissimo C'è lei i 200 ruoti Me li prende senza problemi Molto bene Siamo sui 190 200 Madonna santa che palle Alla fine decelerano sempre O troppo O troppo poco Ok Dietro la tornado No Attenzione Si leggermente Davanti alla 944 Mi pare Cioè sono più o meno lì Teoricamente È lei Abbiamo la C dal secondo posto Intanto Ci siamo dunque Andiamo con i prossimi veicoli Randomizzati Avremo come primo veicolo Questo è meglio di no Neanche questo è meglio di no Abbiamo La jugular O la jugular Come si pronuncia La fenix Non male Il coso Come si chiama Non mi viene il nome E abbiamo infine Una peugeot Cominciamo ovviamente Dalla jugular State tranquilli voi Un secondo Va da dentro Signor Clinton Molto bene Ma hanno fatto esplodere il coso Madonna se si guida male Sto coso però Allora Ok è andata Molto bene Hanno fatto esplodere il coso Al Marshall Cosa è che era Allora la jugular L'ha fatto schifo Ma qua insomma Non penso ci fossero dubbi A riguardo Arrivederci Distro Mi hanno distrutto il coso No è ancora intatto Un attimo Attenzione Fatemi dare un'occhiata L'ho dovuto cambiare Perché quell'altro L'avevo eliminato Posso tornarci dentro Teoricamente si Se me lo fate esplodere ancora vi tiro una testata Mi rompe la Fenix Dio santo che sclerotici questi Allora la prossima è la Fenix Se non mi sbrigo questi fanno un casino Quindi arrivederci Salve è stato bellissimo Riuscirà la Fenix A trovare la prima posizione Non lo so Me lo auguro Ultima volta che faccio una rampa con la polizia Perché rompono troppo le palle Vada No a dire la verità è divertente Allora attenzione Che forse Di poco Sarebbe atterrata leggermente indietro Ma c'è un po' di errore In tutti i veicoli Quindi la Fenix Trova la seconda posizione Tornata ancora imbattibile Allora prima che la faccia Esplodere un'altra volta Usiamo il Marshall Venga qua Non l'ho segnato Vabbè al massimo lo bloccherò Allora il Marshall Riuscirà a fare un coso di buono Assolutamente no Ok Era qua più o meno Non so che dire Cioè Non ha fatto una gran bella roba Ma sicuramente meglio Di quel coso Mezzo cararmato Che spara laser E come ultimo veicolo Abbiamo la Peugeot 107 Riuscirà a fare un buon saldo Non lo so Ma vedo un elicottero incastrato Nella rampa là in fondo Il che non è un buon segno Tra poco avrò la sesta stella Quindi mi cominceranno a spawnare A raffica Dei veicoli militari Pronti a rompere le palle Ho detto dai 190 ai 200 Alla fine sono sempre sui 180 190 Quindi No Porca p***na Peccato Comunque si mette Leggermente il road knife Davanti a quel coso La jugular Andiamo con i prossimi I quattro veicoli randomizzati Prima i quellanti sono mosso No cos'è C'è un coso là Prima che mi arrivi addosso È dato un veicolo normale Per favore non un elicottero Ultimo veicolo abbiamo Ok Una coquette classic Va bene Cambierà il primo posto Non lo so Probabile però Si stacchi Che mi fa da peso Allora Io sento delle esplosioni dietro Spero non mi sia esploso niente Ok 200 li tiene Stia ai 190 Non c'è Arrivato Ma va bene lo stesso Bravo il baller Ah è vero che posso usare anche la cosa Ha preso un po' avanti Ma chi se ne frega Comunque il baller Non ha fatto niente male La prossima è la macchina Penso più bella Cambia dentro GTA Abbiamo questa Camaro Riuscirà a vincere Non lo so Io me lo auguro Io ti fumo per lei quest'oggi Vediamo se ce la farà Oppure no Stia sui 190 Ecco Esempio Questa a differenza delle altre Ci sta Alla fine comunque è saltata dai 186 Quindi È prima va bene Ha preso qualche metro Ma l'ha preso un po' tutta Anche la Tornado l'ha preso Non ho capito niente Dopo quel fogliamento lì in mezzo Comunque Cambia la classifica Camaro in prima posizione Secondo posto Tornado Terzo posto abbiamo la Fenix Quarto la P944 Incastrata in un albero No che abbiamo questa qua Scusatemi E abbiamo la Cita Io non sento un c***o Poliziotti di m***a Allora abbiamo la Mercedes Adesso riuscirà lei a mettersi davanti Probabile perché È molto più veloce anche della cosa Ma santo Dio Come fa ad andare giù così tanto di velocità Non beccare la pioppa Non beccare la pioppa Si accoppia con la Fenix Ma la supera di pochissimo Terza posizione per la Mercedes Gran roba Sono matti Sono matti i poliziotti Sono matti Non so perché Quando vedo queste cretinate della polizia Mi viene in mente GTA San Andreas Avete veramente l'ambulanza Invece di salvare le persone Che le falciava Ecco uguale Rallenta Ok 190 Meno male Una che riesce a saltare più o meno La velocità Mamma mia Attenzione 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 Boom Gran roba C'è lei di solito è uno scarto Invece quest'oggi C'è lo faccio un taglio Su quello che ho detto Perché ho detto una roba veramente brutta Ma lasciamo perdere Comunque La coquette Quella insomma Scarsa Fa una gran roba Andiamo con i prossimi spawn Mentre quelli fanno Insomma la loro festa Là in fondo Prossimi quattro veicoli Abbiamo No input niente Abbiamo Random Niente barca Lo slam van Che è scarso La dinka Jester Che è scarsa Il trattore Che è straforte E abbiamo infine Il benefactor XLS Suv Secondo me qua Il trattore spacca tutto Anche i militari Mi ha rotto tutti i vetri Secondo me Volete una barca Prenda la barca Lei Vuole una barca Ecco Le piace Ingrati Secondo me tra poco L'XLS Usano per scolare la pasta Dal gran che l'ha smitragliato Non si è fatto niente Comunque È sempre normale Nonostante comunque i danni Siano attivati Io non so perché Non si prendono Oh Con calma Santo Dio Stavo scherzando Non dico più niente Che qua porca vacca Me li fanno finire male Allora i 200 Ma vai su Madonna Lo molli un attimo Questo viene giù come una peracotta Attenzione Vada 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 Attenzione Atterraggio Molto buono Devo dire la verità Per quello che fa di solito Tanto buono Andiamo col prossimo veicolo Comunque quest'oggi La possibilità di crash È altissima Mi aspettavo Un crashone Dopo neanche Cosa c'è L'amco di un terrorista Dopo neanche 10 minuti Invece stranamente sta reggendo Anche se Secondo me tra poco ci molla Non lo so In quel caso Insomma vincerebbero le prime Arrivate Cosa fa la Dinka Shester da gara Seconda posizione Che salto Dinka Shester da gara Seconda posizione Tanta roba Prossimo veicolo Quello in cui io credo di più State buoni No 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 Buono lei Che mi spacca il trattore Stia buono Allora il trattore va bene La velocità viene su Veramente molto 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 Oh santo Dio Che accelerata Cioè decelerata Pardone Peccato Io ci credevo in sto trattore Io volevo arrivasse primo Ebbe qua sotto nei commenti Per il trattore Allora Lei è un gran veicolo Lei mi salta tanto Mi salta bene Il 200 me ritiene Non proprio Vediamo l'atterraggio Un po' incidentoso Santo Dio Benomai Atterrano tutte quante qui Supera col muso Anche la coquette Fatemi dare un'occhiata Secondo me si O no Non ne ho idea Circa dovrebbe essere Più avanti Penso l'XLS Ma di pochissimo proprio Mi piace perché le posizioni Sulle rampe Sono sempre così chiare No Dunque andiamo con i prossimi veicoli Io non ci sto più capendo niente No Il santo spirito No Questo l'ho già usata Quindi niente Abbiamo Dio santo Cos'è la committiva del treno Ma sta succedendo La smetto di trovarmi il treno Un attimo che secondo me Quello esplode tutto Stavo dicendo Prossimi veicoli Randomizzati Tra poco ci verrà la terza guerra mondiale Su GTA Abbiamo Il Fatum che non è male Hot Nive l'ho già avuta Quindi niente Abbiamo Il Terror Byte Ok Dopo il Terror Byte Abbiamo Una barca Niente barca Questo coso qua E infine abbiamo Una Nebula Turbo Mai vista anche questa O se l'ho vista Non me la ricordo Vediamo Se mi arriva i 200 Non male E rallenta un po' Ma vai su Dio santo Se va giù anche questo Gran salto per il Fatum Attenzione Non beccare alcuna pioppa Invece becca la pioppa E fa una posizione di merda Addirittura Dietro allo Slam Van C'è tanta roba Per lo Slam Van Il Fatum rimane Turlupinato Un po' Dalle cose Dalle pioppeli E abbiamo Il Terror Byte Sono delle macchine Si stanno accoppiando Non guardate Che poi Il team Non me le passa 200 Stai lì Stai lì Bravo Bravissimo Amma mia Il Terror Byte Che per una volta Buona fa Le cose belle Bravo Bravissimo Attenzione C'è Terror Byte Polizioni in su Per lui Perché è una disgrazia Di veicolo L'unico E mi 190 L'è in cima Quasi l'unico E si mette dietro Una tornado C'è la rampa Più ubriaca Della storia Delle rampe Mai visto un casino Del genere Colpa dei poliziotti Poi eh E andiamo col prossimo Di questo coso arrugginito Il Wastelander Ma ci torturano La gente qua in cima Vada Mamma mia Addirittura i 200 Mi tiene Ma che coso è Sto roba arrugginito Mamma mia Posizione di m***a Ma almeno i 200 Me li ha toccati Là in cima Abbiamo l'ultima Di questo gruppo La nebula turbo Io direi dopo magari Di fare l'ultimo gruppo E poi guarderemo Chi è davanti E faremo lo scontro finale Su questa rampa Senza polizia E senza fermi Magari con la polizia Che dite Ormai ci sono affezionati Un po' Non becco nessun elicottero È vero Potevamo beccare qualche elicottero Sarebbe stato fighissimo Boom Pegato per l'atterraggio Che ho preso qualche metro in avanti Cosa ci capisco Qua in mezzo Sembra il pasticcio Di non so cosa Andiamo con l'ultimo veicolo Santo Dio Lei si levi dalle palle Subito Che ho già perso la pazienza Ultimi 4 veicoli Come ho detto Il primo sarà Niente moto Il cani smeso più lungo Cosa sto facendo Il secondo Ancora una moto Ho detto che non uso le moto Subito Abbiamo questa macchina qui Abbiamo quest'altra macchina qui E abbiamo Ok Terminiamo Con una DS3 Mi hanno tirato fuori Franklin L'ho visto volare via Non so dove si è finito però Questa era qui E questa era qui Ora vediamo dove è finito Franklin Ok Venga qua signor Clinton Signor Mesa C'è Davanti Lei mi ci deve arrivare O perlomeno Un veicolo che mi arrivi Oltre quel pasticcio di macchine Io volevo capirci un po' meglio 193 Il Mesa non delude E i 190 Ci arriva sempre Dico anche in situazioni tipo questa Grande cosa per il Mesa Che addirittura supera una Tornado Ok la Tornado forse ha beccato le piopse Stia buono lei Allora Collisione tolta Scendiamo e passiamo con il prossimo veicolo Che appunto è sta macchina qua Che non so che macchina sia Non ne ho proprio idea Abbiamo la Cadix Si chiama Non lo so Non la conosco Però va bene Attenzione 200 me li tiene 193 Ci sta mi piace come cosa Mamma mia che salto Che fossero moddate non c'era dubbio Taraggio perfetto Orca Si mette nel pasticcio anche lei Penultimo veicolo abbiamo La Coquette Blackfin Dopodiché Avremo quell'altro là in fondo Che non mi ricordo Il DS3 Ok e faremo la sfida finale Tra i 5 veicoli Posizionati insomma Meglio Vada Tenga Mamma mia Anche questo si tiene bene La velocità Ci siamo Sperando faccia una buona posizione Vediamo Attenzione Ok si incastra Nel Mesa Ma non rin Madonna Ha fatto meglio anche questa Della Tornado Ultimo veicolo Teoricamente Il salto Insomma la selezione Diciamo negli alberi L'ha vinta La cosa La Camaro Vedremo La DS3 Faremo qualcosa di buono Potrebbe essere un veicolo Modato È molto probabile come cosa Il giudicato della velocità È messo bene DS3 Attenzione Mamma mia che salto Primo posto Pollicione in su Citroën DS3 In prima posizione Secondo posto Abbiamo la Camaro Successivamente Abbiamo la Jester Con una terza posizione Mai vista In quarta posizione Il Mesa E in quinta posizione La Blackfin Quindi trova posizione La Blackfin Ci siamo dunque Partiremo dalla quinta Fino alla prima Chi vincerà Non lo so Teoricamente dovrebbe vincere La cosa Secondo me vincere DS3 Probabile Anche se non ne sarei Così tanto sicuro Cominciamo con la prima Ovvero con Cat Blackfin Partita Quale sarà la sua velocità Abbiamo i 400 Erodi toccati Sulla ramba Questo è il suo salto Vediamo un attimo Sulla sua posizione Sarà buona Oppure no Teoricamente Non fa mai niente di buono Riemerge un po' Vai su Si ferma O ce la fa Ok ce l'ha fatta Rimergere Non pensavo Prossimo veicolo Qualificato Ovviamente abbiamo il Canis Mesa Ma anche da lui Non mi aspetto miracoli Però teoricamente Rispetto alla Blackfin C'è insomma Salta di più il Mesa Parte molto veloce 503 Il record Intanto è il suo Questo è il suo salto Andrà fuori mappa Ovviamente Direi proprio di sì Vediamo un attimo Anche perché deve andare sotto Ma deve tornare su Il che è decisamente Molto Molto coso Vediamo Questa è la sua posizione Quasi oltre la mappa Quindi secondo me La sfida tra DS3 e Kamara Andrà ben oltre Abbiamo come successivo La Dinka Shester Dovrebbe secondo me Riuscire ad arrivare Tra la Coquette Blackfin E il Canis Mesa 500 Non mi ritocca 465 Più o meno Un po' di più Della Blackfin Dovrebbe farlo Non lo so Vediamo Atterraggio orribile No Addirittura dietro Ultimo posto Quindi per la Dinka Shester Momentaneamente Abbiamo la classifica In questo modo Il Mesa Arrivato mi sembra Al quarto posto In prima posizione In seconda posizione Abbiamo la Blackfin E in terza Abbiamo la Shester Ma abbiamo ora La Camaro E poi abbiamo La DS3 Chi riuscirà a spuntarla Tra le due Non ho un'idea Io sinceramente Di fo la Camaro Però secondo me Vince la DS3 Il record me lo fa 530 Rotti Assolutamente sì E moddata sì Ma non così tanto Mi aspettavo di più Deve essere sincero Oddio C'è insomma di più Un gran salto Un grandissimo salto Atterraggio buono Ovviamente Già in prima posizione Su questo Non c'è dubbio Infatti ovviamente Andata oltre Il limite Della mappa Quindi La blocchiamo La tiriamo verso l'altra In modo da riuscire a vederla Quando andremo con la DS3 Sperando appunto Che si faccia vedere Ma teoricamente Dovrebbe farsi vedere Al massimo Facciamo una roba del genere Gli mettiamo tipo un fumogeno Tipo così In modo che sia più visibile E ora passiamo con l'ultimo veicolo Vero Citroen DS3 Riuscirà a confermare La prima posizione Teoricamente sì In pratica non lo so Vediamo Sì è più veloce Madonna La vedi già qua Questa mi fa i 560 Il record di velocità è suo Supererà la Camaro Vediamo un attimo Dovremmo vedere un coso Sbirlucicare La Camaro è qua sotto Si vede Vedete Boom Va giù Quindi la blocchiamo E la facciamo andare Fuori dall'acqua Per riuscire a capire meglio La distanza che c'è Tra le due La Camaro è arrivata qui La DS3 è arrivata qua in fondo Quindi vince Questa rampa Insomma la rampa delle pioppe Chiamiamola così Per insomma le 100 pioppe Perché c'erano esattamente 100 pioppe La vince La Citroen DS3 Secondo posto abbiamo la Camaro In terza posizione Abbiamo il cani smesa In quarta la Coquette Blackfin E in ultima posizione Abbiamo la Dinka Jester Io spero che questa rampa Vi sia piaciuta Lasciatemi un sito Qua sotto nei commenti Cosa ne pensate Tra l'altro ragazzi Stavo pensando una cosa Avevo pensato di fare Il prossimo torneo delle rampa Verso maggio Ma dato che con il fatto Della quarantena Siamo tutti a casa Potrei anche farla prima magari Ditemi un sito nei commenti Cosa ne pensate E pensavo di farlo Come secondo torneo Ovvero andare a selezioni Tutti i furgoni Tutte le berline Tutte le coupé Eccetera 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 Selezionare i tre migliori veicoli Che poi si sfideranno In un torneo finale Con tutti quanti I più forti Io saluto il signor Clinton Prima che possa fare Qualsiasi altra minchiata Anche se oggi ne ha fatte poche Ne hanno fatte molti di più poliziotti Ma figo Non sono scemi Mica io Ma signor Clinton Lei quando vuole è anche peggio Comunque lasciamo perdere Va bene così Eccetera 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 Eccetera